Buongiorno, ci siamo ok? Buongiorno! Allora, scusateci stamani, ma dobbiamo recuperare quanto non abbiamo detto agosto e ce ne sono tante, per cui parto senza perdere tempo. Allora, che cos'è il personal branding? Un bel post di Raffaele che si muove merita. Una lettura perché dà qualche idea interessante. Metodo di studio, memorizzare meglio con le ripetizioni spaziate. Anche questo è carino e, secondo me, utile nella vita. Google pianifica di utilizzare Moom per i teatri snippet, cioè praticamente verificare se sono vere, se quelle informazioni sono vere. Potrebbe essere una cosa interessante. Su Data Studio è possibile creare dei record collegando direttamente le sottoproprietà attraverso GA4, eccetera, eccetera. SEO, sempre Google, rilascerà un nuovo segnale di ranking a livello di sito, HCU, c'è tutto da studiarlo, c'è un aggiornamento dei contenuti, se qualcuno lo sa meglio di me, me lo racconti. Turismo 2022, un bel post anche questo. Praticamente il turismo non è che se la passi così bene, a quanto pare, è tutto da studiare. Mancano un po' di stranieri, gli italiani fanno, ma non stanno così bene, quindi c'è diversa roba da vedere. TikTok, questa invece è veramente bella. TikTok lancia delle nuove shopping ads che sono sia un catalogo che video con la possibilità di avere prodotti, che dirette con la possibilità di avere prodotti. TikTok va messo dentro il nostro piano di business. Per vendere oggi, secondo me, serve anche quello di... Un nuovo report di Castelleggio associati sull'e-commerce. Anche questo è molto interessante, sono 50 pagine. Quindi andate da scaricare, lo trovate su castelleggio.it, merita una lettura, va fatto. Bolletta Shock è praticamente un post abbastanza interessante che fa vedere come alcune realtà oggi si ritrovano con dei costi che davvero rendono difficile sostenere l'azienda. Cioè, i costi sono davvero alti. Non sono alcune realtà. Cioè, anche nel privato. In arrivo su LinkedIn, la possibilità di caricare nelle proprie foto dei bottoni con un link attivo. Come avviene su Instagram. Anche questa è una buona opportunità di business. Significa avere un collegamento LinkedIn diretto per vendere, sostanzialmente. Nel 2022, secondo voi, è ancora necessaria la voce del menu in alto? Home? E c'è una bella risposta a questa domanda che dice, guarda, io ho studiato questa cosa e oggi tantissima gente tuttora non ha idea di come... Ciao Fabio. Sponato. Per cui, sì, serve ancora il pulsante in home, altrimenti le persone non sanno muoversi dentro di un sito. Community, PR, nurturing. Un sacco di informazioni, un sacco di cosine da studiare, merita di essere dentro. IEM Evolution ricerca un SEO. Wow, che bello. Be Social cerca un esperto di Google Ads con almeno 5 anni di esperienza. Molto interessante anche questo. Un podcast sulla SEO. Anche questo io mi scriverei subito. Mi sono iscritto. Altra cosa molto importante. Su Instagram arrivano le foto ultra alte in formato 9 e 16, quindi lunghissime. Anche quella lì da fare subito. Un tool fighissimo per ottimizzare il tuo conversio in rete. Anche questo andatela a guardare. Cioè, fa bene conoscere queste cose. Un padre che ha fotografato le foto del figlio per mandarle al dottore e Google gli ha bloccato tutto perché ha detto oh, questa è pedopornografia. Questo ha fatto ricorso, ha avuto ragione, ma è incredibile come Google ti venga a vedere che cosa stai facendo, no? È impressionante. Eventi digitali a non perdere in settembre. Ce ne sono tantissimi di segnalo al post di Andrea che li elenca tutti. WooCommerce, anzi, pardon, Shopify non se la passa così bene. Non sta andando molto bene. Quindi una cosa da seguire è interessante. Perché no? I titoli clickbait sono sempre dannosi? Eh, no. Quindi, cioè, o meglio, sì. Quindi, da approfondire anche questa cosa. Abbastanza carina. E io direi che ho finito, ragazzi. Vi passo la palla. Buongiorno a tutti. sui titoli clickbait dico che secondo me l'atto Discover se non fai i titoli clickbait sei nessuno. Esatto. Lascialo la parola anche agli altri amici. Sì, anche se in teoria Google ci chiede di non farlo. Sì, 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 nelle linee guida proprio di Discover c'è scritto di non farlo. Google ci chiede di non fare tante che facciamo. Esatto. Allora, Google conosciamo tutte le penalizzazioni che attua soprattutto per quanto riguarda i network spam comunque diciamo chi fa link building in maniera pesante su vari siti. Un bel articolo che dice che Google elimina la penalizzazione manuale dopo due anni. Io questa cosa non la sapevo e chiedo a voi e a tutti gli altri che ci seguiranno se effettivamente hanno mai avuto un caso studio del genere. Se effettivamente dopo due anni la penalizzazione non ci ho mai fatto caso. Io no. Sparisce da solo. Comunque è interessante. Dopodiché arriverà un update per adesso in lingua inglese il famoso helpful content update dovrebbe ma queste sono le cose che dice Google migliorare il modo in cui gli utenti vedono la qualità all'interno del modo di ricerca vedremo tutte le volte che ha provato a fare una cosa del genere poi non è proprio andata benissimo di Google. Comunque arriverà in inglese mi aspetto che entro fine anno o massimo diciamo primo semestre del 2023 arriverà anche poi in Italia se il test americano andrà bene un bel tool per migrare le audience da GA a GA4 fatto da Charles Farina andatelo a vedere lo trovate sul sito il riferimento e poi un caso studio di Andrea Giudice in cui il report diciamo in questo post di LinkedIn riporta un caso in cui un no index tramite degli hreflang ha permesso di deindicizzare praticamente tutto quanto il network quindi interessante anche questa cosa io ho finito alla fine voglio aggiungere una cosa su alcuni gruppi telegram che noi stiamo seguendo e che vogliamo portare a conoscenza di tutti ma lascio la parola ad Antonio ah ok questo è proprio cattiveria buongiorno a tutti e buone vacanze buon rientro ma questa è la maglietta questa è la maglietta dei SEO secondo me e guarda dipende secondo me come dico io non è proprio dei SEO però diciamo è un dipende è un dipende travestito comunque mi associo a Demetrio col discorso dei gruppi telegram ce ne sono diversi interessanti che stanno nascendo e poi vedrete insomma nelle fonti i due che stiamo seguendo nell'ultimo periodo di Amin e di Emanuele Tolomei che sono molto interessanti per il resto durante le vacanze ci sono state una marea di aggiornamenti fra Google Search Console Helpful Content Update che ho pronunciato malissimo ma non mi interessa l'incendio di Google e tutte quelle belle cose lì su Search Console parto col dire che tutti quegli aggiornamenti che erano stati predetti quindi semplificazione del rapporto di copertura miglioramento del rapporto sui core web vitals eccetera sono stati tutti lanciati quindi adesso dovreste tutti quanti vedere tutti questi nuovi rapporti all'interno della console di Search Console è stato lanciato anche il rapporto nuovo sui video quindi nel rapporto nuovo sui video è possibile vedere per URL tutti i video che sono contenuti attraverso i frame oppure no insomma all'interno delle pagine quindi è interessante andare ad analizzare direttamente questi aspetti e nei core web vitals una delle cose interessanti di questo aggiornamento è che in Search Console adesso si vedono direttamente URL singoli mentre prima bisognava entrare nel rapporto per vedere un campione di questi URL e non tutti quanti quindi queste sono delle cose molto interessanti che sono avvenute e che ci hanno insomma rivoluzionato un po' al modo di fare analisi cioè ce l'hanno semplificato ci agevolano il lavoro Antonio bravo bisogna riabituarsi praticamente all'interfaccia di Search Console io il 22 l'ho aperto e ho detto aspetta cos'è quindi si è cambiato un pochino però quest'anno ragazzi stanno cambiando un po' tutte prima Analytics ovviamente sono passate a G4 io ormai lo apro e lo richiudo ora la Search Console anche se Zoom ha fatto la nuova per chi lo utilizza chiaramente quindi tra un pochino non useremo più niente perché non ci capiamo altra cosa carina si si ci aggiorniamo cambiamo cambiamo insomma immagine tornando a noi un'altra cosa carina è che Google continua a perfezionare e testare il modo in cui i video brevi vengono visualizzati in Discover quindi caroselli altri formati li vediamo molto più spesso anche in Discover la devi a leggere nella fonte che è carina Elisa Paesante ci parla del about this result che arriva anche in Italia insomma la famosa funzione che in Inghilterra e anche in altri paesi già c'è da un po' ci permette di consultare direttamente in SERP tutte le fonti che Google associa a quel determinato tipo di notizia adesso è diciamo visibile anche nelle SERP italiane quindi anche questa è una novità da parte di Google su GA4 ne parlava Michele prima e continua a GA4 a portare novità ovviamente Matteo Zambon ci parla insomma della misurazione del form che è stata migliorata con l'aggiunta di due nuovi eventi e di sette nuovi parametri io ne capisco poco che niente quindi lascio a lui poi nelle fonti l'approfondimento che è meglio Francesco Margherito ci parla di cos'è l'autorità di un sito web molti di noi lo sanno altri non lo sanno insomma andatevi a leggere la fonte che lo approfondisce e non fa mai male insomma ripassare queste cose e poi c'è la nuova certificazione di Google Analytics 4 di cui tutti stanno parlando è stata lanciata da Google qualche settimana fa molti se la stanno accaparrando come si faceva con l'Universal ovviamente chi non l'ha ancora presa come noi che credo che nessuno di noi quattro l'abbia ancora presa ma la prenderemo quando avremo tempo però sostanzialmente è la solita cosa cioè è un test per prendere una certificazione che a noi servirà per arricchire il nostro curriculum ma ovviamente se non usate GA4 se non siete in grado insomma di usare GA4 la certificazione vi serve a poco le risposte alla certificazione di Google Ads le trovi su Google per cui bravo non ha nessun valore perciò chi è che ha il coraggio di dire che queste certificazioni mi servono a nulla l'ho appena fatto io però confermate l'ho confermato certo assolutamente il problema è la storia di chi fa l'esame e chi sa fare ci sono una marea di persone che fanno quel test passandolo ma poi se dai un compito a quelle persone non sanno fare nulla esatto e ci sono persone che quel test non lo faranno mai e sono bravissime con quello bravo di base a noi ci servono queste certificazioni per mantenere il Google Premier Partner o il Google Partner la seconda ma di fatto le rinnoviamo solo per questo esatto io non le facevo più le ho rifatte per il Google Premier Partner sì esattamente me le chiedeva loro dovete fare assolutamente sì servono solo per quello sostanzialmente quindi vabbè poi le faremo ce le prenderemo prima o poi quando avremo tempo io ce l'ho segnato per il fine settimana se ce la faccio vedi vedi la stagano mi schiaggia bravo bravo lui è il futuro dei marketer ultima cosa carina raga come fallisce una discussione questo ci prende proprio insomma nel profondo diciamo questa cosa ne parla Bruno Mastroianni che è un giornalista in un suo post dove analizza appunto una discussione che è avvenuta in un programma fra un politico e un esperto di sociologia che partono con i presupposti giusti per discutere di un argomento politicamente insomma avvezzo che riguarda Putin la situazione politica della Russia eccetera tutti e due hanno i presupposti per poter affrontare una discussione e approfondirla il problema sorge quando cominciano ad andare sul personale cioè partono bene e poi la discussione verte sul personale quindi da che ha dei buoni presupposti inizia a fallire andando a sfociare verso il litigio ecco a chi non è mai successo e effettivamente come evitare tutto questo ce lo spiega appunto in questo post carino e che invita a riflettere sostanzialmente perché tutti no facciamo questo tipo di errore spesso può capitare chi non l'ha fatto pure noi quando parliamo fra di noi ci mandiamo a quel paese è finito tutti i giorni pure stamattina anzi Antoine se ti levi su 15 minuti te ne sei presi 12 ok grazie faccio solo questo e me ne vado ciao arrivederci eccoci qua buongiorno ragazzi scusate siamo tornati e 2000 news come diceva Fabio ci stiamo un attimino rotando allora io vado velocissimo keyword negative a livello di account è in beta nelle prossime settimane evviva evviva grazie a Dio iniziamo a testare le parole chiave negative a livello di account per le performance max era ovvia questa cosa inizialmente dicevamo queste performance max sono delle black box non riusciamo a fare più nulla non vediamo niente eccetera piano piano restando un pochino aprendo probabilmente gli abbiamo dato anche noi noi inteso come professionisti un po' di insight a google dicendo ragazzi ridateci un po' la possibilità redirect zero click su search console molto carino l'approfondimento Maria Chiara Marcella andatelo a vedere fondamentalmente che cosa ci dice Maria Chiara ho perso traffico lo dice google classica frase che succede a tutti quando andiamo a vedere in search console un traffico ok ma perché succede questo sono state cambiate url quindi lo slag è stato cambiato non sono stati fatti giusti redirect insomma scaricarsi tutte le url che hanno portato impression zero click e andare a vedere se effettivamente questi redirect funzionano virus all'interno degli account google ads un video carino questo è picchissimo sì è un video carino che mi è capitato su instagram tiktok lo dobbiamo ancora aprire e fondamentalmente Elisabetta Gallucci dice che c'è questo piccolo virus che può entrare all'interno degli account google ads e lo potete vedere perché quando cliccate su un annuncio non viene fatto un redirect che passa per google e manda sul sito col classico parametro gglid e tutto il resto se l'avete impostato i vari utm ma praticamente ti rimane una pagina bianca per andarlo a correggere andate in impostazione account modello monitoraggio vedrete che all'interno ci sono dei parametri basta eliminare quei parametri e tutto è risolto google ads frequenza target le azioni di brand lift vengono finalmente rese disponibili per tutti gli inserzionisti questo vuol dire che si apre una nuova generazione di annunci video su youtube ads molto bello l'approfondimento di andrea testa io ho provato a fare qualche campagnetta ma non ho ancora dati non vedo l'ora di arrivarci mi ha sorpreso che il capping massimo è di 4 io mi aspettavo molto molto di più cioè mi sembra pochissimo però evidentemente sbagliavo ultima news google smetterà di rispondere alle domande più stupide vabbè su questo abbiamo un po' di dubbi però d'ora in poi quando le nostre domande a google sono assurde il motore di ricerca si limiterà a scrivere sembra che non ci siano ottimi risultati per questa ricerca perché? perché nel 2017 ci fu un caso mediatico dove praticamente se si scriveva Obama sta pianificando un colpo di stato effettivamente google rispondeva sì Obama potrebbe pianificare un colpo di stato comunista alla fine del suo mandato del 2016 vabbè sono quelle stupidaggini però è sempre carina è sempre carina dirla insomma io ho partito la musichetta ragazzi scusate è partito su giù non so chi l'ha fatto partire non lo so ma l'ho vinto io no non l'ho vinto io il premio GAC sì sì l'ho vinto io il premio GAC con l'ultima news hai vinto tu e allora ragazzi io sono molto fiero di questo rientro sono io il vincitore del premio GAC dopo le dopo le ferie grazie buongiorno saluto tutti anche io ciao ragazzi ciao 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 Andrea ma abbiamo finito le news allora prego aggiungiamo due cose allora riprendiamo i gruppi telegram ci sono sicuramente il gruppo di Emanuele Telomei ragazzi seguitelo ha una fonte di informazioni veramente enorme spettacolare fa delle cose che veramente a pagamento trovate il link sarebbero da vedere le cose che fa gratis su quel gruppo dovrebbero metterle a pagamento anche perché sono molto pratiche soprattutto ragazzi facciamo una piccola parentesi perché magari noi addetti ai lavori Emanuele lo conosciamo per chi si affaccia oggi Emanuele Telomei è un consulente SEO di un livello molto alto ora magari lo sentite un po' meno perché non si fa branding su se stesso eccetera però insomma è un collega un professionista veramente bravo quindi seguitelo seguitelo e poi Amin è un altro SEO del storico dal 2005 che fa SEO ha aperto un canale Telegram e anche lì ci sono ottimi spunti di discussione come si diceva trovi il link sul sito ti mettiamo The Breaking Web ti mettiamo il link ti mettiamo adesso il link dell'articolo e trovi tutto sul sito direi che può andare Fabio con l'ultima news no l'ultima la cavolata del giorno avete presente il comodoro di Pachino un prodotto storico della tradizione della tradizione italiana eccetera no è un brevetto del 1989 fatto in Israele che in realtà all'inizio nemmeno nessuno voleva utilizzare poi in realtà alcuni imprenditori a Pachino visto l'ottima possibilità di conservare durabilità nel tempo il prodotto hanno cominciato a investirci tanto che oggi crediamo tutti che sia un prodotto storico e della tradizione no è dell'89 brevetto in Israele impressionante finita finita già e allora sigla ciao ciao a tutti